Mia zia lo dice sempre, non ci sono più le mezze stagioni e io vado in confusione, quindi cosa fare? Andiamo a vedere il meteo. Previsioni per la prossima settimana. In Lombardia nuvolosità irregolare con addensamenti anche compatti sui settori centro-occidentali ma senza fenomeni ampi e schiarite altrove. Sul resto della penisola nubi sparsi su tutte le regioni ma con tempo generalmente stabile, non succede nulla. Le previsioni della settimana, lo ammetto, sono così così, però ricordatevi che su Chrome TV splende sempre il sole. Ciao! Ciao!